Si è verificata nella serata di ieri, intorno alle 19, una grave tragedia stradale lungo la statale adriatica, che ha portato alla morte di un uomo di 32 anni residente a Pesaro. La vittima, Mattia Piperno, stava percorrendo a piedi il bordo strada delle Siligate, all'altezza del concessionario BMW, quando è stato investito da due vetture che transitavano in direzione Pesaro. Ancora ignota in fase di studio da parte delle forze dell'ordine, le cause che abbiano portato il giovane a camminare in un tratto di strada molto trafficato e in cui la velocità dei mezzi risulta essere elevata. L'uomo, dopo essere stato colpito dalla prima vettura, è stato investito dal passaggio di una seconda automobile mentre si trovava già riverso a terra. Poco prima del terribile incidente, alcuni testimoni e conducenti di altri mezzi avevano avvistato l'uomo intento a camminare lungo la Siligata, e proprio per questo la polizia era già stata allertata del pericolo che il 32enne stesse correndo. Attimi minuti troppo brevi però, che non hanno permesso alla volante del 113 di giungere sul posto in tempo per mettere in salvo la vita del ragazzo, che dopo essere stato investito dalla seconda automobile è morto sul colpo. A nulla quindi sono valsi i tentativi di soccorso del 118, giunto sul luogo dell'accaduto insieme ai vigili del fuoco e alle pattuglie di polizia, al lavoro per identificare il corpo del giovane sprovvisto di documenti. Sotto sciocchi i due conducenti dei mezzi che non sono riusciti ad evitare l'impatto contro la vittima, per cui è stata predisposta l'autopsia che permetterà di capire se l'uomo si trovasse in stato di alterazione nel momento dell'accaduto.